siamo nella stanza migliore finora hotel 5 serie luxury un letto per terra, un letto via, una chiara per terra, un bagno, una bella chiusura per chiudere si può fare così lattina perfetto ragni posso entrare da lì perfetto no 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 soprattutto e quindi in questo ok 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 la masca è solo per la scuola perchè qualcosa non è inserito al bagno è meglio per la brina di questo o per la mano perchè la scuola è fluida per la scuola per la scuola Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È tutto ok? Ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.